Buonasera ai nostri telespettatori, abbiamo ospite Germano Zanini, coordinatore del Comitato Infrastrutture Veneto per il CTAV. Buonasera Germano Zanini. Salve, salve, buonasera a lei e a tutti i telespettatori. Sì, allora ieri è stata una data importante per un tema al vostro gruppo molto caro, è arrivata la firma del contratto intanto per la tratta Verona-Vicenza, la prima parte della tratta Verona-Vicenza dell'alta velocità e chiaramente è una parte dell'infrastruttura che poi collegherà Verona a Padova e chiaramente fa parte di tutto un complesso di infrastrutture più ampio. Il vostro comitato si è impegnato affinché questo progetto andasse avanti, qual è il commento adesso che c'è questa tappa importante e immagino anche la soddisfazione? Sì, è un momento assolutamente importante e c'è grande soddisfazione. Ci sono voluti 18 mesi da quando quel 15 dicembre del 2018 tutte le forze economiche, imprenditoriali, sociali, sindacali erano scese in Piazza Braia, una Piazza Braia diciamo molto fredda, per dire, per rivendicare appunto l'importanza della TAV. Quindi grande soddisfazione quando ieri diciamo è stato firmato questo protocollo che autorizza i primi lavori, lavori importanti per 2,7 miliardi per questa famosa tratta diciamo di inizio tra la Verona e Padova. E quindi che ci porterà a breve e quindi sostanzialmente anche a completare, a integrare questa TAV che sta già arrivando da Brescia e dopodiché da Brescia partendo con questa traccia diciamo tra Verona e Vicenza e poi in secondo momento anche Padova avremo l'alta velocità e l'alta capacità. Ecco un progetto, questo delle infrastrutture, dell'ampliamento dell'alta velocità importante e significativo in questo periodo in cui si parla tanto di rinascita economica, rilancio per i problemi che sappiamo bene essere legati anche alla pandemia appunto. Cosa può dare un'infrastruttura come questa al rilancio anche economico? Beh innanzitutto 2,7 miliardi di investimento significano ricadute professionali, occupazionali perché significa cantieri aperti per qualche anno e questo evidentemente ti crea sviluppo, volano, lavoro, opportunità, occupazione quindi questa è una cosa assolutamente bella. Seconda cosa importante riguarda proprio il ruolo che viene ribadito di Verona come centralità dello scambio diciamo delle merci, il famoso asse Berlino-Palermo dell'A1 che si interseca diciamo con l'asse che unisce poi l'estero europeo alla Spagna, il famoso A5 diciamo con questo progetto di TAV si vede ancora rafforzato. Pensiamo che se non fosse stata approvata questa linea TAV il problema era molto semplice, si sarebbe spostata, la linea sarebbe passata al di sopra delle Alpi e tutta l'Italia, Nord Italia sarebbe rimasta tagliata fuori da questo scambio di infrastruttura di merci. Vi ricordo a tutti che il vento è proprio grande produttore di merci, avendo anche parecchie coltivazioni e questo significa raggiungere con l'alta velocità, significa raggiungere i mercati in pochi momenti, in pochi istanti e permette alle nostre aziende soprattutto di essere molto competitive. Quindi è un grande successo per il territorio che può sperare di ritornare competitivo. Ecco, con questa tappa fondamentale, insomma il proseguire delle infrastrutture, il vostro comitato ha chiuso il proprio lavoro o avete altre iniziative in agenda? Diciamo questa è la prima tappa di un percorso più ampio per le infrastrutture, chiaro che questo ci dà soddisfazione ma evidentemente il comitato adesso deve vigilare, deve essere da stimolo, deve continuare perché noi sappiamo che spesso le opere cadono poi diciamo in topi burocratici temporali. Quindi il comitato, il vento SITAB andrà avanti nell'ottica di promuovere il completamento dell'opera. Ma in secondo luogo ricordiamoci che il vento per essere competitivo necessita di altre infrastrutture da completare. La famosa pedemontana, la famosa diciamo anche, parliamo tanto anche della valdastico per facilitare il trasporto delle merci. Quindi le infrastrutture sono fondamentali, quindi il vento SITAB andrà avanti per essere appunto soggetto di stimolo. Benissimo, allora ringraziamo il signor Zanini che è stato con noi oggi e ci ha dato questo punto di vista sul proseguimento delle infrastrutture in Veneto e intanto buona serata e arrivederci. Grazie, grazie a lei e a tutti i telespettatori.